3. Magia contagiosa Abbiamo considerato principalmente fin qui quel ramo della magia simpatica che si può chiamare omeopatica o imitativa. Il suo principio direttivo, come abbiamo visto, è che il simile produce il simile, o in altre parole, che un effetto assomiglia alla sua causa. L'altro grande ramo della magia simpatica, che ho chiamato magia contagiosa, parte dal concetto che le cose che siano state una volta in contatto debbano rimanere sempre, anche se del tutto separate l'una dall'altra, in tale relazione di simpatia, che ciò che venga fatto all'una debba similmente agire sull'altra. Così, la base logica della magia contagiosa, come quella della magia omeopatica, è un'errata associazione di idee. La sua base fisica, se si può parlare di una base fisica della magia omeopatica, è un qualche mezzo materiale che, come lettere dei fisici moderni, deve esistere per collegare gli oggetti lontani e per trasportare le impressioni dall'uno all'altro. L'esempio più familiare di magia contagiosa è la simpatia magica che si suppone esista fra l'uomo e le parti del suo corpo da lui separate, come i capelli o le unghie, così che chiunque venga in possesso di capelli o di unghie può far quello che vuole, a qualsiasi distanza, sulla persona da cui furono tagliati. Questa superstizione è diffusa in tutto il mondo. Esempi di essa riguardo ai capelli e alle unghie saranno dati più tardi in questo lavoro. Fra le tribù dell'Australia era pratica assai comune di strappare uno o più denti incisivi a un ragazzo in quelle cerimonie di iniziazione a cui ogni membro maschio doveva sottomettersi prima di poter godere tutti i diritti e privilegi di un uomo adulto. La ragione di questa pratica è oscura. Tutto ciò che qui ci interessa è la credenza che una relazione simpatica continui a esistere tra il ragazzo e il suo dente dopo che questo sia stato estratto dalle gengive. Così, tra alcune tribù del fiume Darling nella Nuova Galles del Sud, il dente estratto veniva posto sotto la scorza di un albero vicino a un fiume o a una sorgente. Se la scorza cresceva sopra il dente o se il dente cadeva nell'acqua, tutto andava bene, ma se si trovava esposto all'aria e le formiche vi andavano sopra, gli indigeni credevano che il ragazzo avrebbe sofferto di una malattia alla bocca. Tra i Mooring e altre tribù della Nuova Galles del Sud, il dente estratto era prima custodito da uno dei vecchi e poi passava da un capo all'altro finché aveva fatto il giro della comunità. Poi tornava al padre del ragazzo e infine al ragazzo stesso. Ma, comunque, passando da mano a mano, non poteva per nessuna ragione essere posto in una borsa contenente sostanze magiche perché si credeva che ciò avrebbe messo in grande pericolo il possessore del dente. Il defunto dottor Howitt una volta custodì dei denti estratti ad alcuni novizi alla cerimonia di iniziazione e i vecchi lo pregarono gravemente di non metterli in un sacchetto dove sapevano che egli teneva dei cristalli di quarzo e dichiararono che se l'avesse fatto la magia dei cristalli sarebbe passata nei denti e avrebbe fatto del male ai ragazzi. Quasi un anno dopo il dottor Howitt ricevette la visita di uno dei capi delle tribù Mooring che avevano fatto più di 350 chilometri per venire a riprendere i denti. Quest'uomo spiegò che era stato mandato a riprenderli perché uno dei ragazzi era caduto malato e si credeva che ciò derivasse da qualche maleficio che avesse ricevuto il suo dente. Gli fu assicurato che i denti erano stati sempre tenuti in una scatola separata da ogni altra sostanza che, come i cristalli di quarzo potesse influenzarla, e il vecchio tornò in patria portando con sé il dente avvolto e nascosto con grande cura. I basuto nascondono con grande cura i loro denti strappati affinché non cadano nelle mani di certi esseri mitici che si aggirano tra le tombe e che potrebbero nuocere con dei malefizi al possessore del dente. Nel Sussex, una cinquantina di anni fa, una serva protestava violentemente contro l'uso di gettare via i denti caduti dei bambini, affermando che se fossero stati trovati e rosicchiati da qualche animale, il nuovo dente del bambino sarebbe stato assolutamente come i denti dell'animale che aveva morso l'antico. In prova di questo citava il vecchio Mastro Simmons, che aveva un grosso dente di porco nella mascella superiore, difetto fisico che egli assicurava essere colpa di sua madre, che per sbaglio aveva buttato via uno dei suoi primi denti nel trogolo del maiale. Questa credenza ha condotto anche a delle pratiche speciali, intese secondo i principi della magia omeopatica, a sostituire i vecchi denti con dei nuovi migliori. Così, in molte parti del mondo, vi è l'abitudine di mettere i denti caduti in un posto dove saranno trovati da un topo, con la speranza che, per la simpatia che continua a esistere tra essi e l'antico possessore, l'altro dente acquisti la stessa fermezza e la perfezione del dente del roditore. Per esempio, in Germania, dicono che tra il popolo sia precetto universale che quando vi cavano un dente dovete metterlo nella tana di un topo. Far questo con il dente di latte di un bimbo quando cada impedirà al fanciullo di avere mai male ai denti. Oppure bisogna andare dietro la stufa e gettarsi il dente alle spalle dicendo «Sorcio, dammi il tuo dente di ferro e io ti darò quello mio di osso». Dopo di questo, gli altri denti saranno sempre buoni. Lontano assai dall'Europa, a Raratonga, nel Pacifico, quando cadeva un dente a un bambino, si usava recitare la seguente preghiera. «Sorcione! Sorcetto! Ecco il mio dente vecchio! Dammene un altro nuovo!» Buttavano quindi il dente nel tetto di paglia della casa perché i topi vi facevano i loro nidi. La ragione assegnata per invocare i topi in quest'occasione era che i denti di topo erano i più forti conosciuti dagli indigeni. Altre parti che comunemente si creda rimangano in unione simpatica con il corpo dopo che il legame fisico sia cessato sono il cordone umbilicale e la seconda, compresa la placenta. Così intima, infatti, è considerata l'unione che le buone e le cattive fortune dell'individuo si soppongono collegate per tutta la vita con l'una o con l'altra di queste porzioni della sua persona, così che se il suo cordone umbilicale viene conservato e trattato bene sarà felice, ma se viene danneggiato o perduto, egli ne soffrirà in conseguenza. Così, certe tribù dell'Australia occidentale credono che un uomo nuoti bene o male a seconda che sua madre, alla sua nascita, abbia o no gettato in acqua il cordone umbilicale. Tra gli indigeni del fiume Penfather, nel Queensland, si crede che una parte dello spirito del bambino, cioè, sia nella seconda. Quindi la nonna prende la seconda e la seppellisce nella sabbia, segnando il posto con molti bastoncelli che infigge in cerchio nel suolo e lega insieme per l'estremità, così che la struttura rassomiglia a un cono. E Angea, l'essere che causa la concezione nelle donne, mettendo loro nell'utero dei piccoli bambini di fango, quando viene e vede il luogo, prende lo spirito e se lo porta via in una delle sue tane, in un albero, in una buca nella roccia o in una laguna, dove esso rimane per molti anni. Ma un giorno o l'altro metterà di nuovo lo spirito dentro un bambino ed esso nascerà di nuovo nel mondo. A Ponape, una delle isole caroline, il cordone umbilicale è messo in una conchiglia e poi collocato nel modo che sia più adatto alla carriera che i genitori hanno scelto per il loro bambino. Per esempio, se ne vogliono fare un buon arrampicatore di alberi, attaccano la conchiglia a un albero. Gli abitanti delle isole Kay considerano il cordone umbilicale come il fratello o la sorella del bambino secondo il suo sesso. Lo mettono in un vaso con della cenere che attaccano ai rami di un albero perché vigili sulla sorte del suo compagno. Tra i Batak di Sumatra, come tra molti altri popoli dell'arcipelago indiano, è la placenta che viene considerata come il fratello o la sorella minore del bambino secondo il sesso di questi e viene seppellita sotto la casa. Secondo i Batak, è collegata con il benessere del bambino e sembra infatti essere la sede dell'anima trasferibile di cui parleremo più in là. I caro Batak, anzi, affermano che delle due anime dell'uomo, la vera, è quella che vive nella placenta sotto la casa ed è quella l'anima che produce i figli. I Baganda credono che ogni persona nasca con un doppio e identificano questo doppio con la seconda, che considerano come un secondo bambino. La madre seppellisce la seconda alle radici di un banano che in tal modo diventa sacro finché i suoi frutti non siano maturi e allora questi vengono colti per una sacra festa della famiglia. Tra i cerocchi, il cordone ombelicale di una bambina viene seppellito sotto un mortaio da grano affinché la fanciulla divenga una buona fornaia, ma il cordone ombelicale di un bambino viene appeso a un albero nella foresta perché egli divenga un buon cacciatore. Gli Inca del Perù conservavano il cordone ombelicale con la più grande cura e lo facevano succhiare al bambino quando questi cadeva malato. Nell'Antico Messico davano ai soldati dei cordoni ombelicali di bambini perché li seppellissero nel campo di battaglia così che il bambino acquistasse passione per la guerra. Ma il cordone ombelicale di una bambina veniva sotterrato dietro al focolare domestico perché questo le avrebbe ispirato amore per la casa e una buona disposizione per cucinare e per fare il pane. Anche in Europa è diffusa la credenza secondo la quale si ritiene che il destino di una persona sia più o meno collegato con quello del suo cordone ombelicale o della sua seconda. Così, nella baviera renana, il cordone ombelicale viene tenuto per qualche tempo avvolto in un pezzo di vecchia tela e poi tagliato o fatto a pezzi con un ago secondo che sia un maschio o una femmina perché divenga un buon lavoratore o una buona cucitrice. A Berlino, comunemente, la levatrice consegna al padre il cordone ombelicale seccato con la stretta ingiunzione di conservarlo accuratamente perché, finché venga ben conservato, il fanciullo viverà prospero e immune da malattie. Nel Böse e nel Perche, la gente sta bene attenta a non gettare il cordone ombelicale nell'acqua o nel fuoco credendo che, se ciò facesse, il bambino finirebbe annegato o bruciato. In molte parti del mondo, il cordone ombelicale e, più comunemente, la seconda sono considerati come un essere vivente, il fratello o la sorella del bambino o come l'oggetto materiale in cui risiede lo spirito custode del fanciullo o una parte della sua anima. La connessione simpatica che si suppone esista tra una persona e il suo cordone ombelicale o la sua seconda si rivela assai chiaramente nel costume molto diffuso di trattare queste cose in modo che influisca per tutta la vita sul carattere e la carriera della persona rendendolo, se uomo, un agile arrampicatore di alberi, un vigoroso nuotatore, un buon cacciatore o un coraggioso soldato se donna, un intelligente massaia, una buona fornaia e via dicendo. Così le credenze e gli usi concernenti la seconda o la placenta e, in minor grado, il cordone ombelicale presentano un notevole parallelismo con la diffusa dottrina dell'anima esterna o trasferibile e con i costumi su di essa fondati. Non è quindi forse troppo arrischiato il congetturare che la rassomiglianza non è una mera coincidenza casuale ma che nella seconda o placenta abbiano una base fisica, e non necessariamente la sola, per la teoria e per la pratica dell'anima esterna. La trattazione di questo soggetto è riservata a un'altra parte di questo libro. Una curiosa applicazione della dottrina della magia contagiosa è la relazione comunemente supposta esistere tra un ferito e l'agente della ferita, così che qualunque cosa sia posteriormente fatta da o all'agente deve corrispondentemente influenzare il paziente, in bene o in male. Così, l'igno ci dice che, se avete un ferito e ve ne duole, non avete a far altro che sputare sulla mano che inflisse la ferita e il dolore del sofferente sarà istantaneamente alleviato. Nella melanesia, se gli amici di un uomo si impossessano della freccia che lo ferì, la mettono in un luogo umido o tra delle foglie fresche, così l'infiammazione diminuirà e sarà presto finita. Intanto, il nemico che tirò la freccia si dà un grande affare per aggravare la ferita con tutti i mezzi a sua disposizione. Per questo, egli e i suoi amici bevono dei succhi caldi e brucianti e masticano delle foglie irritanti perché ciò, evidentemente, infiammerà e irriterà la ferita. Tengono l'arco vicino al fuoco per rendere calda la ferita che l'arco ha inflitto e per la stessa ragione, se sono riusciti a recuperarla, mettono nel fuoco la punta della freccia e con gran cura tengono l'ureo piegato e ogni tanto lo fanno scattare perché dia al ferito tensione di nervi e spasimi di tetano. Si ammette e si ripete costantemente, dice Bacone, che unger l'arma che ha inflitto la ferita fa guarire la ferita stessa. In questa questione, su testimonianza di uomini degni di fede, ebbene io stesso non sia finora completamente disposto a crederci, si devono notare i seguenti punti. Primo, l'unguento è fatto di vari ingredienti, di cui i più strani e difficili ad aversi sono il musco sopra il teschio di un morto insepolto e il grasso di un cinghiale e di un orso uccisi nell'istante della generazione. Il prezioso unguento composto di questi altri ingredienti veniva applicato, come spiega il filosofo, non alla ferita, ma all'arma, e ciò anche se il ferito fosse a grande distanza o totalmente ignaro dell'operazione, e aggiunge che si era anche provato l'esperimento di togliere l'unguento dall'arma senza che il ferito lo sapesse, con il risultato che egli cadeva in grandi spasimi di dolore finché l'arma non fosse unta di nuovo. Per di più, si afferma che, anche se non ci si può impadronire dell'arma, basta mettere nella ferita, finché ne esca sangue, uno strumento di ferro o di legno somigliante a quell'arma, e ungere questo strumento servirà ugualmente a raggiungere l'effetto voluto. Rimedi della sorta che Bacone stimava degni della sua attenzione sono ancora in voga nelle contee orientali dell'Inghilterra. Così, nel Suffolk, se un uomo si taglia con un falcetto o con una falce, mette attenzione a tenere lucida l'arma, e l'unge bene perché la ferita non vada in cancrena. Se si punge la mano con una spina, unge e ingrassa la spina estratta. Un uomo una volta andò da un dottore con una mano infiammata perché si era appunto con una spina mentre faceva la siepe. Essendogli stato detto che la mano aveva suppurato, rispose «Eppure non avrebbe dovuto perché ho ingrassato bene lo spino dopo averlo tirato fuori. Se un cavallo si ferisce un piede camminando su un chiodo, uno stagliere del Suffolk conserverà invariabilmente il chiodo, lo pulirà e lo ingrasserà ogni giorno perché il piede non vada in suppurazione. Similmente, i contadini del Cambridgeshire credono che se un cavallo si è ficcato un chiodo nel piede, bisogna ingrassare il chiodo con il lardo e con l'olio e metterlo in qualche posto sicuro, altrimenti il cavallo non guarirà». Qualche anno fa un veterinario fu chiamato per curare un cavallo che aveva avuto un fianco squarciato dal cardine di un cancello. Arrivato alla fattoria, trovò che nulla era stato fatto al cavallo ferito, ma che un uomo stava lavorando a estrarre il cardine dal muro perché fosse ingrassato e messo al sicuro. Ciò che, secondo i sapientoni di Cambridge, avrebbe fatto guarire il cavallo. Similmente, i contadini dell'Essex credono che se un uomo ha ricevuto una coltellata, è essenziale per la sua guarigione che il coltello venga ingrassato e messo trasversalmente sul letto dell'infermo. In Baviera, vi consigliano di ingrassare un cencio di lino e avvolgerlo sul filo della scure che vi ha tagliato, badando bene di tenere il filo all'insù. Quando il grasso sulla scure si secca, la ferita guarisce. Similmente, sui monti dello Harz dicono che se vi tagliate dovete spalmare il coltello o le forbici con del grasso e mettere lo strumento in un luogo asciutto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Appena il coltello si asciuga, la ferita guarisce. Altri, tuttavia, in Germania, dicono che bisogna ficcare il coltello in un terreno umido e che la ferita guarisce quando il coltello si arrugginisce. Altri ancora, in Baviera, raccomandano di spalmare la scure o quel che sia con del sangue e di metterla sotto le grondaie. Il processo intellettivo, che in tal modo si raccomanda tanto ai contadini inglesi e tedeschi quanto ai selvaggi della Melanesi e dell'America, è portato più avanti dagli aborigeni dell'Australia centrale, i quali credono che in certe circostanze i parenti stretti di un ferito devono ungersi tutti, restringere la loro dieta e regolare la loro condotta in altre maniere per assicurare la sua guarigione. Così, quando un bambino è stato circonciso e la ferita non sia ancora rimarginata, la madre non deve mangiare o possum né una certa specie di lucertole né serpenti pitoni né altra specie di grassi, altrimenti ritarderebbe al fanciullo la guarigione della ferita. Ogni giorno ingrassa i suoi strumenti agricoli, non li perde mai di vista e la notte dorme con essi vicini al capo e non permette a nessuno di toccarli. Ogni giorno, inoltre, si strofina tutto il corpo con del grasso e si crede che questo aiuti in qualche modo a far guarire il figlio. Un altro perfezionamento dello stesso principio è dovuto all'ingegnosità dei contadini tedeschi. Si dice che quando uno dei suoi maiali o una delle sue pecore si rompe una gamba, l'agricoltore della baviera renana o dell'assia lega la gamba di una sedia con bende e stecche nella dovuta maniera e per qualche giorno nessuno può sedere su quella sedia o muoverla o urtarla, che, se lo facesse, nuocerebbe al maiale o alla pecora e ne comprometterebbe la cura. In quest'ultimo caso è chiaro che, interamente al di fuori della sfera della magia contagiosa, siamo passati nella sfera della magia omeopatica. La gamba della sedia che viene medicata invece della gamba della bestia non ha nessun rapporto con l'animale e l'applicazione delle bende non è che una pura simulazione del medicamento che una chirurgia più razionale applicherebbe al paziente reale. La connessione simpatica supposta tra l'uomo e l'arma che l'ha ferito è probabilmente basato sulla persuasione che il sangue rimasto nell'arma continua a sentirsi in rapporto con il sangue del corpo. Per la stessa ragione i Papua di Tumleo, un'isola vicino alla Nuova Guinea, mettono molta cura a gettare nel mare le bende insanguinate con cui hanno medicato le loro ferite per timore che, se cadessero nelle mani di qualche nemico, questi potrebbero fargli del male con arti magiche. Una volta, quando un uomo con una ferita nella bocca che sanguinava continuamente andò da certi missionari per farsi medicare, la sua moglie fedele ebbe un grande affare per raccogliere tutto il sangue e gettarlo nel mare. Per quanto strana e forzata ci possa sembrare quest'idea, lo è meno della credenza secondo la quale si ritiene che permanga una simpatia magica tra una persona e i suoi vestiti, cosicché ciò che venga fatto ai vestiti sia sentito dalla persona, anche se questa sia in qualche modo molto lontana. Nella tribù Voce Obaluc dello Stato di Vittoria, uno stregone si impadronisce talvolta della coperta di Opossum di un uomo e la brucia lentamente nel fuoco. Facendo questo il proprietario della coperta cade ammalato. Se lo stregone acconsente a disfare l'incantesimo, rende la coperta agli amici dell'ammalato e dice loro di metterla dentro l'acqua per lavarne via il fuoco. Fatto questo, il paziente sentirà una frescura ristoratrice e probabilmente guarirà. A Tanna, una delle nuove ebridi, un uomo che avesse rancore con un altro e desiderasse di farlo morire, cercherebbe di impossessarsi di qualche panno che avesse toccato il sudore del corpo del suo nemico e se ci riuscisse, strofinerebbe accuratamente il panno con le foglie e con i ramoscelli di un certo albero. Poi farebbe un bell'involto del panno, delle foglie e dei fuscelli e lo brucerebbe lentamente nel fuoco. Via via l'involto è consumato, la vittima cade ammalata e quando è ridotto in cenere muore. In quest'ultima forma di incantesimo tuttavia la simpatia magica può essere supposta non tanto tra l'uomo e il panno quanto tra l'uomo e il suo sudore. Ma in altri casi della stessa specie sembra che il panno sia sufficiente per fornire allo stregone una presa sulla sua vittima. La strega di Teocrito, mentre scioglieva un'immagine di cera perché il suo amante infedele si sciogliesse d'amore per lei non dimenticava di gettar nel fuoco un pezzetto del suo mantello che egli aveva dimenticato in casa di lei. In Prussia dicono che se non potete prendere un ladro il meglio che potete fare è di impadronirvi di una parte del suo vestiario che egli abbia dimenticato perché se lo battete forte il ladro cadrà ammalato. Questa credenza è saldamente radicata nella mente del popolo. Ottanta o novanta anni fa nelle vicinanze di Berend un uomo fu sorpreso mentre cercava di rubare del miele e fuggì via lasciando a terra il mantello. Quando sentì che l'irato possessore del miele stava affatturando il suo mantello perduto fu così turbato che si mise a letto e morì. La magia può anche essere esercitata su un uomo per simpatia non solo per mezzo del suo vestito o di parti divise del suo corpo ma anche per mezzo delle impronte lasciate dal suo corpo sulla sabbia o sulla terra e specialmente è una diffusa superstizione che danneggiando l'ombra di un piede voi danneggiate il piede che l'ha fatta. Così gli indigeni dell'Australia del sud-est credono di poter azzoppare un uomo mettendo sulla sua orma degli acuti pezzi di quarzo di vetro di osso o di carbone. I reumatismi sono da essi attribuiti sovente alla stessa causa vedendo un uomo dei tatungo lung zoppicare gravemente l'Ohowit gliene domandò la ragione ed egli rispose qualcuno ha messo della bottiglia nel mio piede egli soffriva di reumatismi ma credeva che un nemico avesse trovato la sua orma e vi avesse messo dentro un piede di bottiglia rotta la cui influenza magica gli era entrata nel piede pratiche simili prevalgono in varie parti d'Europa così nel Mecklenburgo credono che ficcando un chiodo nell'orma di un uomo quell'uomo diverrà zoppo qualche volta è necessario che il chiodo sia estratto da una cassa da morto a un tal modo di fare del male a un nemico si ricorre anche in alcune parti di Francia si dice che c'era una volta una vecchia che veniva spesso a Stone nel Suffolk ed era una strega se quando ella camminava taluno l'avesse arguita e avesse piantato un chiodo o un coltello in una delle sue impronte essa non avrebbe potuto fare un passo di più finché il ferro non fosse stato tirato via in Jugoslavia una ragazza prende della terra dall'orma dell'uomo che ama la mette in un vaso da fiori e vi pianta dentro una calendula i cui fiori si dice che non appassiscano mai e come i suoi fiori d'oro crescono e fioriscono e non appassiscono mai così l'amore del suo innamorato crescerà sempre e sempre fiorirà per non appassire già mai così l'incanto d'amore agisce sull'uomo per mezzo della terra su cui ha camminato un antico modo danese di concludere un trattato era basato sulla stessa idea di connessione simpatica tra l'uomo e la sua orma le parti contraenti spruzzavano con il loro sangue le impronte gli uni degli altri dandosi così un pegno di fedeltà nell'antica Grecia superstizioni della stessa sorta sembrano essere state comuni perché si credeva che se un cavallo avesse camminato sulle orme di un lupo sarebbe stato preso dai crampi e una massima attribuita a Pitagora proibiva di traforare le orme umane con un chiodo o con un coltello della stessa superstizione fanno uso i cacciatori in molte parti del mondo per prendere la cacciagione così un cacciatore tedesco pianterà un chiodo staccato da una cassa da morto nella traccia recente della cacciagione credendo che ciò impedirà all'animale di sfuggirgli molti aborigeni dello stato di vittoria mettono della braggia calda nelle orme degli animali che inseguono i cacciatori ottenotti gettano in aria una manata di sabbia presa dalle orme della selvaggina credendo che questo farà cadere gli animali gli indiani Thompson usavano fare degli incantesimi sulle orme dei cervi feriti e dopo di questo credevano superfluo di inseguire l'animale quel giorno perché essendo così stregato non sarebbe potuto andare lontano e sarebbe presto caduto morto similmente gli indiani ojebway mettevano della medicina sull'orma del primo cervo o del primo orso che essi incontravano supponendo che questo avrebbe presto portato l'animale a vista anche se fosse stato due o tre giorni di viaggio lontano perché quest'incantesimo aveva il potere di condensare in poche ore un viaggio di molti giorni i cacciatori ewe dell'africa occidentale colpiscono le orme della selvagina con un bastone a guzzo per stolpiare gli animali e poterli così raggiungere ma sebbene l'orma del piede sia la più ovvia non è la sola impronta fatta dal corpo per il cui mezzo si possa esercitare la magia sopra un uomo gli aborigeni dell'Australia del sud-est credono che si possa fare del male a un uomo seppellendo degli aguzzi pezzetti di quarzo di vetro e via dicendo nell'impronta lasciata dal corpo seduto la virtù magica di queste punte entra nel corpo e causa quei dolori acuti che gli ignoranti europei attribuiscono ai reumatismi possiamo ora comprendere perché una massima dei pitagorici diceva di togliere via l'impronta lasciata dal corpo quando ci si alza dal letto il precetto non era che una precauzione contro la magia facente parte di un intero codice di massime superstiziose che l'antichità attribuiva a pitagora sebbene senza alcun dubbio fossero familiari ai progenitori barbarici dei greci molto prima dei tempi di quel filosofo 4 la carriera del mago abbiamo così terminato il nostro esame dei principi generali della magia simpatica gli esempi con cui li ho illustrati sono stati tratti per la maggior parte da quella che si potrebbe chiamare magia privata ossia dai riti magici e dagli incantesimi praticati a beneficio degli individui o contro di essi ma nelle società selvagge si trova comunemente in più quella che possiamo chiamare magia pubblica ossia magia praticata a beneficio di tutta la comunità ogni volta che si osservino delle cerimonie di tal sorta per il bene pubblico è ovvio che il mago cessa di essere un semplice praticante privato e diventa sotto certi aspetti un funzionario pubblico lo sviluppo di una tale classe di funzionari è di grande importanza per l'evoluzione tanto politica che religiosa della società poiché quando si suppone che il benessere della tribù dipende dalle esecuzioni di certi riti magici il mago si innalza a una posizione di grande influenza e reputazione e può facilmente acquistare il grado e l'autorità di capo e di re tale professione per conseguenza attira i migliori e più ambiziosi della tribù perché apre loro una prospettiva di onori di ricchezza e di potenza come difficilmente può offrire qualsiasi altra carriera i più intelligenti comprendono come sia facile mettere nel sacco i loro più ottusi fratelli e valersi della loro superstizione a proprio vantaggio non che l'incantatore sia sempre un briccone o un impostore egli è spesso sinceramente convinto di possedere quei meravigliosi poteri che la credulità dei suoi compagni gli attribuisce ma più è sagace e più facilmente saprà vedere attraverso le idee fallaci che si impongono alle menti più deboli così i membri più scaltri della professione tendono a divenire dei più o meno inconsapevoli impostori e sono proprio questi uomini che per virtù della loro abilità superiore giungono generalmente sulla cima e si acquistano le posizioni di più alta dignità e di più autorevole comando i trabocchetti che insidiano il sentiero del mago professionale sono molti e di regola solo un uomo di grande presenza di spirito e di acuto intelletto sarà capace di fare tra essi la sua strada sicura perché bisogna sempre tenere a mente che ogni professione pretesa accampata dal mago come tale è falsa nessuno di essi si può mantenere senza inganno conscio o inconscio e quindi il mago che crede sinceramente nelle sue stravaganti pretese si trova in pericolo molto maggiore e ha molte più probabilità di essere arrestato nella sua carriera che non il deliberato impostore l'onesto stregone si aspetta sempre che i suoi incantesimi producano il loro effetto e quando falliscono come in realtà sempre fanno egli non ha pronta come il suo disonesto collega una scusa plausibile per spiegare il suo fallimento e prima che ne trovi una c'è il caso che riceva una legnata in testa dai suoi delusi e irati clienti il risultato generale è che a questo stadio dell'evoluzione sociale il supremo potere tende a cadere tra le mani di uomini della più acuta intelligenza e del meno scrupoloso carattere se potessimo fare il bilancio del male che essi fanno con la loro disonestà e dei benefici che essi impartiscono con la loro superiore sagacia troveremmo forse che il bene sorpassa il male di molto perché assai più danno è stato probabilmente fatto al mondo dagli sciocchi onesti messi negli alti gradi che non dagli intelligenti disonesti una volta che il nostro scaltro briccone ha raggiunto la cima della sua ambizione e non ha più nessuna mira egoistica da raggiungere egli può dare e spesso gli dà il suo ingegno la sua esperienza le sue risorse al servizio del bene pubblico molti uomini che sono stati spinti senza alcuno scrupolo nell'acquisto del potere sono stati anche molto beneficiati nell'uso di esso quando il potere che essi ambivano e ottennero era quello della ricchezza dell'autorità politica o che si sia nel campo della politica l'intrigante astuto il vincitore crudele può finire con l'essere un saggio e magnanimo dominatore benedetto in vita rimpianto in morte ammirato e applaudito dalla posterità tali uomini per prendere due esempi dei più cospicui furono Cesare e Augusto ma colui che è sciocco una volta lo sarà per tutta la vita tanto più grande sarà il potere tra le sue mani e tanto più disastroso sarà l'uso che ne farà la più grande calamità della storia inglese la rottura con l'america non sarebbe forse accaduta se Giorgio III non fosse stato un onestissimo sciocco il costituirsi della società tendeva a porre il dominio degli affari nelle mani dei più meritevoli e trasportava il fulcro del potere dai molti al singolo sostituiva una monarchia e una democrazia o meglio a un'oligarchia di vecchi perché in generale la comunità selvaggia è governata non dall'intero corpo di adulti maschi ma da un concilio dei più attempati il cambiamento quali che fossero le cause che lo produssero e quale il carattere dei primi dominatori era in complesso molto benefico il sorgere della monarchia appare infatti come una condizione essenziale per l'elevarsi dell'umanità sopra lo stato selvaggio nessun essere umano è più strettamente legato al costume e alla tradizione del selvaggio democratico e per conseguenza in nessuno stadio della società il progresso è più lento e difficile l'antico concetto che il selvaggio sia l'essere più libero del genere umano non ha alcun fondamento egli è uno schiavo non certo di alcun padrone visibile ma del passato dello spirito dei suoi morti progenitori che gli intralciano tutti i suoi passi dalla nascita sino alla morte e lo dominano con una verga di ferro tutto ciò che essi hanno fatto è il modello della giustizia e la legge non scritta a cui egli deve una cieca e muta obbedienza viene quindi affidato agli ingegni più alti un compito prossimo all'impossibile cambiare i vecchi costumi per altri migliori l'uomo più elevato viene trascinato giù dal più debole e dal più stolto che per necessità impone lui il livello medio poiché lui non può innalzarsi mentre l'altro può cadere la superficie di una tale società presenta un livello morto e uniforme per quanto è umanamente possibile ridurre le ineguaglianze naturali e le immisurabili differenze reali di innata capacità e temperamento a un falso e superficiale aspetto di eguaglianza in questo basso e stagnante stato di cose che i demagoghi e i sognatori degli ultimi tempi hanno decantato come lo stato ideale e l'età d'oro dell'umanità quel che contribuisce a elevare la società aprendo una carriera all'ingegno e proporzionando il grado di autorità all'abilità naturale dell'uomo merita la riconoscenza di tutti coloro che hanno a cuore il bene reale dei loro compagni una volta che questi influssi vivificatori hanno cominciato a operare e non si possono allora sopprimere più il progresso della civiltà diventa relativamente rapido il sorgere di un uomo al potere supremo gli basta per effettuare durante una sola vita umana dei cambiamenti che prima parecchie generazioni non sarebbero state sufficienti a produrre e se come spesso accade questi o un uomo di non comune intelletto e energia egli si varrà prontamente dell'opportunità persino i capricci e le manie di un tiranno possono servire a rompere le catene del costume che pesano così gravemente sopra il selvaggio appena una tribù cessa di essere diretta dai timidi e divisi consigli dei vecchi e cede al dominio di un'unica mente risoluta e forte allora diviene temibile per i suoi vicini ed entra in una carriera di ingrandimento che in un primitivo stadio della sua storia è spesso assai favorevole al suo progresso sociale industriale e intellettuale estendendo il suo dominio parte per forza d'armi parte per volontaria sottomissione delle tribù più deboli la comunità acquista spesso ricchezze e schiavi che ambedue liberando alcune classi della perpetua lotta per una nuda sussistenza gli danno l'opportunità di dedicarsi a quel disinteressato desiderio di conoscenza che è il più nobile e il più potente strumento per migliorare la sorte dell'uomo il progresso intellettuale che si rivela nello sviluppo dell'arte e della scienza e nel sorgere di vedute più liberali non può essere dissociato dal progresso economico e industriale e questo riceve a sua volta un immenso impulso dalla conquista e dall'impero non è per solo caso che le più vehementi eruzioni dell'attività della mente umana hanno seguito sempre da vicino i passi della vittoria e che i grandi popoli conquistatori hanno fatto tanto per fare avanzare e sviluppare la civiltà guarendo così nella pace le ferite inflitte durante la guerra i babilonesi i greci i romani gli arabi valgano da testimoni per il passato e potremo forse vivere abbastanza per vedere un fenomeno simile nel Giappone e non è neppure per semplice caso che risalendo il corso della storia sino alle fonti vediamo tutti i primi grandi passi verso la civiltà fatti sotto un governo dispotico e tirannico come quelli d'Egitto di Babilonia e del Perù dove il capo supremo imponeva e riceveva la servile obbedienza dei sudditi sotto il doppio carattere di re e di Dio non è certo esagerato affermare che nelle epoche primitive il dispotismo è il migliore amico dell'umanità e per quanto possa sembrare paradossale anche della libertà poiché vi è più libertà nel miglior senso della parola libertà di pensare il proprio pensiero e di foggiarsi i propri destini sotto il più assoluto dispotismo sotto la più opprimente tirannia che sotto l'apparente libertà della vita selvaggia dove la sorte dell'individuo è foggiata dalla culla sino alla tomba nella ferrea forma del costume ereditario fino a questo punto poiché la pubblica professione della magia è stata una delle strade per cui gli uomini più atti sono arrivati al potere supremo essa ha contribuito a emancipare il genere umano dalla schiavitù della tradizione e a elevarlo a una più larga e libera vita con una più vasta veduta sul mondo questo non è un servigio piccolo che fu reso agli uomini e quando per giunta noi rammentiamo che in altra direzione la magia ha preparato la strada alla scienza siamo forzati ad ammettere che se l'arte nera ha fatto del gran male essa è stata anche la fonte di molto bene che se è stata la figlia dell'errore è stata anche la madre della libertà e della verità grazie a tutti grazie a tutti